Allora, andiamo di qua, andiamo di qua Poi andiamo su di qua Poi andiamo di qua E poi da qua facciamo così E qui c'è un altro dei loro Poi usciamo di qua Poi, z-targeting Splat! Anche se io non credo di riuscire a passare di qua Perché quella mi becca subito Quindi almeno che io non riesca a si possa dire di qua E poi uscire qua Could be an idea Ah, è questo Minchia, che culo No, ma questo è il posto di prima Vabbè, ci può stare Ups Ok Vieni qua, Gerudina Splat Ok Non siamo mai saliti di qua Quindi andiamo su di qua E siamo fuori di qui Quindi no Vieni fuori tesoro Non ci credo, l'ho presa? L'ho presa Come cazzo ho fatto lo so solo io Ma l'ho presa Quindi mo' salto Uh, death shot Head shot, bitch Perché sei entrata verde? Posso chiamarmi i cadavere? Cioè, i... I loro corpi Senza... Beh, non lo so Beh, ragazzi Non mi dovete ascoltare voi Non mi dovete ascoltare Intanto dico puttanate Allora, magari possiamo tipo Saltare così Yeah Salire così Allora La mia cat ha appena fatto un macello allucinante Però va bene Dove andare, ragazzini? Uop Io non lo so dove andare Questa è l'uscita di di fianco Perché lì ci dovrebbe essere tipo la mappa onestamente Che non è che è una cosa che serva più di un tot Posso suonare una canzone Non mi ricordo neanche più qual è la Scarecrow Song Diamine Allora Qua no Non mi riesce però Cosa c'è, Navi? Dimmi Allora Di qua è inutile Di qua è ancora più inutile Però di là non... No, sì Di là sono uscito una volta Di qua anche Qua pure Suppongo Sì perché c'è quello Eh che cazzo è la girata C'è solo quella tizia lì Nope Allora Splat Nice Va bene Devo capire quale passo fare Che se vado di là ovviamente Niente facile Minchia Link dai Oh Bravissimo Linkino Kill the mall Link Kill the mall No Non così Posso tipo colpire lei? Minchia E dura come il marmo Sta tizia Allora andiamo di qua Sto finendo le frecce Che potrebbe essere No piccolo problema Se mi ricordo bene Era tipo Seguire i teschi Perché solo soldi Io voglio frecce Dammi delle frecce Bastardo Su di qua E poi dritto di qua Per foggia Poi da qui c'era l'altro Segui il teschio Sempre No perché i teschi Ci sono anche di qua Niente Puttanate Vari Spam Spam Dammi delle frecce Piccolo mezzo uomo Dammi delle frecce Piccoli vasetti Datemi delle frecce Datemi delle frecce Cazzo Per carità di dio Niente Ciao 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 Questo è il posto dove c'è lei Che sta a guardia di un'entrata strana Giusto Io non credo di poter tipo Droppare giù Dietro di lei Ah quella è la cosa Dove esca Dove mi buttano dentro E fin lì va tutto bene Lì c'è un'altra tizia Invalicabile Quindi questo posto qua È per forza inutile Poi si può andare di qua Facendo così Ok GG Ah Dio il fuoco Oh frecce Grazie al cielo Cosa c'è navi Devo cercare di Penetrarla No eh Beh non lo so navi Non lo so Non so cosa tu voglia dirmi Questo è l'unico modo che ho visto Però per arrivare qua dentro E da qua dentro dove si va Eccolo qua Vieni fuori Gerudina mia Splattete Ok qua è il nulla Qui il nulla Qui un altro po' di nulla E là l'ultimo tizio infatti Mi sembrava di averci Ehi tu giovanotto Qua giù C'è 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 Solito Va bene Parliamo col tizio Non ho idea da dove tu venga Ma hai avuto veramente Del fegato A superare tutte le guardie Qui intorno Tutti i miei amici Carpentieri Sono imprigionati Qui vicino Se ci porterai fuori Di qui Ti restituiremo il favore Ma attento Ci sono guardie Di gerudo ovunque Qui intorno Oh attento Attacco vaginale Attacco vaginale Chiave Ravina piccola chiave Potrei aprire una porta Chiusata da un piccolo lucchetto La potrei usare solo in dungeon Apriamo Liberiamo And Facchessa Avevo paura Che ti fossi dimenticato Di me Sono libero Grazie Sono sciro il carpentiere Per avermi salvato Ti dirò qualcosa Di interessante Sul deserto L'ho rigliato Mentre parlavano De gerudo Dicevano Per attraversare Le terre infestate Dovrei avere L'occhio della verità Il colosso Si trova ai limiti Delle terre Ok Ora ritornerò Alla tenda Alla valle gerudo Vieni a trovarmi Quando vuoi Potrai trovare qualcosa Di utile Ciao Yei E abbiamo liberato Anche lui Fantas- Eh? Ho notato la tua bravura Per aver superato le guardie Devi essere un ladro in gamba Ritengo che tutti gli uomini A parte il grande Ganondorf Siano inutili Ma ora che ti ho visto Non ne sono più tanto certa Naburu L'esaltata Nostro capo Mi ha assegnato Questa fortezza Naburu È seconda in capo Solo al grande Ganondorf Re del ladro gerudo La sua base Si trova nel tempio Dello spirito Proprio alla fine Del deserto Di Vorresti diventare Uno di noi Eh? Va bene allora Da oggi in poi Lo sei Prendi questo Con esso Potrai accedere A tutte le aree Della fortezza Ottieni la carta Di membro Dei gerudo Ora puoi accedere Sei l'unico membro Dei gerudo Perché qua A parte te Nessuno ha un membro Ora puoi accedere Al centro di allenamento Nel loro rifugio Te piace eh? Dare in poi Sei libero eh? Te piace eh? Te piace Assa te piace Andiamoci Questa è ancora Mezza rincoglionita Dalle mie frecce Ma ce l'abbiamo fatta Adesso siamo membri Dei cazzo Di gerudo Fuck yes Yeah Ehi salve a tutti Sono un membro Sono un membro Come va? Da ora in poi Ok Cos'è questa? Mi ricordo più Sei al centro Di allenamento Gerudo La carta socio È valida Prova solo 10 rupie Prova Va bene Prendo le tue 10 rupie Fai del tuo meglio Spla spla Ok Let's fucking go Cosa si fa Al centro del allenamento? Gerudo training grounds Se superai le prove Che ti aspetteranno Più avanti Allora Solo allora Sarai in grado Di ricevere Il nostro tesoro Il mio tesoro Aia Minchia Bel modo per iniziare Link Se vuoi possedere Il nostro tesoro segreto Devi sforzarti Di ottenere le chiavi Nascoste Navigo c'è Serve una chiave Per la prima volta incatenata Ma sei scema? Ok La di dice L'uscita Aha Fermi tutti Yeah Beccazza Forzerino Flat Delle rupie Belle le rupie Aia Wow Sconfiggi i nemici In un tempo limitato Va bene Nice Basta Come tempo limitato Signore Va piazza il tempo limitato Chiave Chiave Prendi le gemme Elucenti Evitando le trappole E i pericoli Gemme Fuck you Eccolo lì Ah no Bastardo Perchè 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 mi devono tutti maneggiare Con si fatta cattiveria Eccoci qua Questo non è il tempo Ovviamente È solo una cosa divertente Da fare Sì sì Gemme Elucenti Tempo Prestabilito Sti cazzi Yey Gemme Elucenti Numero 1 Acquisita Aia Yey Gemme Elucenti Numero 2 Acquisita Yey Gemme Elucenti Numero 3 Acquisita Ok Trappole Evitata Gemme Elucenti Numero 4 Portale Degli Inferi Gemme Elucenti Numero 5 Oh cazzo Facciamoci evitare Questa Fantastico Yey Buongiorno Ok Senza gli oggetti necessari Sarai confuso Da impossibili misteri Lo so Mi sa che mi serve Il super pugno Della forza Di sti cazzi Ok Allora Ancora L'uscita L'uscita purtroppo È questa L'ho istantato così Di cattiveria Con le mani Con le mani d'argento Muoverai L'enorme blocco Eh lo so Ma non ce l'ho ancora Perché devo andare Al tempio Della sti cazzi Yey Trovi un gruppo Di frecce I need bombs I need bombs Yey Quindi Quindi Posso prenderlo Ma non riesco a spingerlo Perché non sono abbastanza forte Quindi devo tornare tutto indietro Mi dispiace Va bene Va bene Ah fuoco Allora Mettiamo questo qua di nuovo Ahia Ok Va bene ragasuoli Vediamo un po' Iniziamo ad arrivare Al tempio Poi una volta che siamo Al tempio Sto pensando Cosa fare D'altro Un altro cosino Grazie Le 10 rupee Sono tutte mie No Frecce Va bene Di qua cos'è Che c'era Che non mi ricordo più Sconfiggi Nemici In un tempo Al limite One Two Dove rompere Free Poi Boom Ciao Grazie cari Troppo gentili Troppo gentili Caso Eh Ormai A sconfiggere queste cose Sono diventato bravissimo Perché la Bygon's War Li manda in confusione Che palle È vero che non si può salire qua Ah Diamine Unico modo per salirci È passare di qua Senza farsi Possibilmente Bruciare Yeeey Che bravura Che bravura Cazzo Gioco ai videogames Da quando avevo Reati Adesso sono In rete Let's play Wanna wait Unico modo per Unico modo per Unico modo per Grazie a tutti